Ok, now! Proviamo a fare un gioco insieme oggi. Io ti farò vedere delle paroline, tu le leggerai e mi dirai cosa c'è scritto. Oppure ti farò vedere delle immagini di persone famose e tu le riconoscerei e mi dirai chi sono. Dai, proviamo a vedere. Ti sfido. Iniziamo. Cosa c'è scritto? Leggo salutare. Leggo salutare. Ciao, 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 ciao. Bravissimo, sei stato proprio bravo. E qui cosa c'è scritto? Leggo ballare. Ma bravissimo, sei proprio un vero ballerino. Senti, e invece? Chi è questo? Il Papa Francesco. Ma sei bravissimo, l'hai riconosciuto. E invece, questo? Albert Einstein. Vediamo un po'. E qui cosa c'è scritto? Leggo suonare. Dai, adesso voglio essere un po' romantica con te. Cosa c'è scritto? Gidremo anche tanto. Ah, grazie. E invece, qui, adesso cosa c'è scritto? Pensare, giusto? Sì, sì, proprio giusto. Mmm, che lunghi pensieri. Mi sembri proprio pensieroso, eh? Bravissimo. Allora, e invece, chi è questo? L'ex Presidente Obama. Bravissimo. E invece, questo? Chi è? Emmanuel Macron. E vediamo un po'. Questa principessa, sai presti dirmi chi è? Lady Diana. Bravissimo. E leggi un po'. Questa parolina? Cosa c'è scritto? C'è scritto cantare. Cosa c'è scritto? Wow, ma sei proprio bravo a cantare. E, senti, invece, qui cosa c'è scritto? C'è scritto recitare. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual'era e cosa dura. E' sta selva selvaggia e astra e forte che nel pensier rinnova la paura. Per il momento mi fermerei qua. Ok, sono d'accordo con te. Vediamo un po', invece, sull'arte. Se conosci qualcosa d'arte, una famosissima, un famosissimo dipinto. Chi è? La monna Lisa. Bravissimo. La monna Lisa. Bravissimo. E, senti, invece, parlando un po' della nostra università, sapresti dirmi chi è questa? Professoressa Paola Borgna. Bravissimo. E, invece, chi è questo? Professore Renato Grimaldi. Bravissimo. Senti, e infine... Sapresti dirmi cosa c'è scritto qua? Walk, tradotto in italiano, camminare. Bravissimo. Ok, grazie. È stato un vero piacere lavorare con te. Grazie a tutti.